Ciao Giovanni e oggi faremo un tutorial su come si cuce Allora, oggi cuciremo una sacca La prima cosa da fare è inserire il filo nel lago Io l'ho già fatto, però come potete vedere è nel lago Poi, in questo caso ho scelto un filo di colore viola Perché è un colore che odio e non ho vestiti di questo colore E sto cuciando una sacca, quindi non si vede E quindi non fa niente che avviola Una volta inserito l'ago, il filo nell'ago Bisogna inserire l'ago nella sacca, ripetutamente Facendo un movimento di questo tipo Bisogna ripetere questo movimento Dipende dallo scratch nella sacca Però, diciamo, sulle 30-35 volte Alle sono costruite La gente va Noi non vedi ž Non vedi Non vedi Non vedi Noi vedi Grazie a tutti.